Abbiamo fatto una partita tosta, il Napoli è una grande squadra, ci ha messo in difficoltà nella prima parte, nei primi minuti del primo tempo, poi comunque anche nel secondo tempo ci sono stati momenti in cui non hanno spinto più loro, momenti in cui abbiamo spinto più noi, però penso che abbiamo disputato una grande partita e ci abbiamo messo gambe, ci abbiamo messo gli attributi, perché comunque non era facile andare sotto, non è stato facile andare sotto due volte e poi rimontare, quindi è un ottimo segnale, siamo felici per questo punto e quindi ci dà morale, siamo carichi perché negli ultimi anni abbiamo sempre fatto grandi partite qua e quindi siamo felici di aver portato a casa un punto contro una squadra forte. E quanto sta crescendo Pierluigi Gollini? È un buon momento, per me sono molto felice per le cose che sto facendo, per quello che sta facendo la squadra, dispiace un po' aver preso il secondo gol così, però non sempre si riesce a rimediare tutto e comunque sono felice perché stiamo facendo delle cose importanti, io sono felice per come stanno andando le cose, siamo un grande gruppo e dobbiamo continuare così e cercare di toglierci più soddisfazioni possibili e cercare di combattere contro tutti sempre e di stare più in alto possibile. Il terzo posto è confermato anche dopo questo turno di campionato, ci sarà il Cagliari poi ci sarà la Champions, l'Atalanta che vuole togliersi soddisfazioni anche in Champions League? Assolutamente sì, fino adesso non ci siamo riusciti per un po' di demeriti nostri ma anche per la sfortuna, sappiamo quanto comunque sia diverso giocare in Europa rispetto a giocare in campionato, però penso che nonostante le scoffite che abbiamo avuto queste partite ci stiano facendo crescere, ci abbiano fatto crescere e penso che si vede partita per partita, quindi la consapevolezza che stiamo acquisendo da queste partite e l'esperienza è sicuramente importante, anche se purtroppo non sono arrivati dei risultati positivi, sappiamo che tutto quello che stiamo facendo adesso ci sta facendo crescere, quindi siamo fiduciosi e vogliamo assolutamente toglierci le soddisfazioni per noi, per i nostri tifosi anche in Champions perché lo meritiamo noi, lo meritano loro, lo meritiamo tutti e quindi cercheremo di fare del nostro meglio anche lì.